Oh bella cante, l'hai visto Punk Rock Vegan Movie di Moby? Domanda abbastanza ricorrente dell'ultima settimana, dieci giorni Quindi dico la mia mentre sono qua in giro con il buon cheddar che si ferma a fare una pipì Allora, film visto, gratis su YouTube, ti invito a guardarlo anche te anche perché è interessante Prima parte dedicata alla storia del punk rock per darti il contesto Naturalmente nulla di nuovo, fatto anche molto bene con animazioni, disegnini Grafiche accattivanti Mentre la seconda parte si entra dentro l'attivismo Anche quella come messaggio assolutamente irreprensibile E forse la cosa che mi è piaciuto di meno è la comunicazione del messaggio Ci sono tanti membri di band all'interno E in un po' tutti ho visto questo porsi un po' al di sopra Come Santoni della serie Sono Vegan Prima di Te Mi sento sto cazzo che poi è praticamente il contrario della cosa detta all'inizio Quando si parla di uguaglianza eccetera Mentre ho trovato il messaggio molto verticale, poco orizzontale Poi forse l'ho visto io, questa cosa però Penso sia abbastanza palese anche confrontandomi con altri che hanno notato questa cosa Per il resto Movi mi è piaciuto, anche un po' autoironico Questa autoironia un po' forzata per farsi rendere simpatico Ciò non toglie che è veramente un grande dal punto di vista musicale Un minuto e mezzo, chiudo Dai!